All'inizio prima della partita ero un po' emozionato perché la prima partita con il Milan a San Siro è una cosa importante. Dopo sono contento per la vittoria, sono contento anche per la prestazione della squadra che abbiamo questo obiettivo di vincere questa partita per rendere in semifinale per andare a vincere questa Coppa. Sono veramente contento, però c'è una parte a frettraggione, devo io anche lavorare per essere ancora più forte. Sì, però vediamo dopo, ho sempre lavorato con questi cross, devo ancora lavorare per mettere ancora meglio le palle. E niente, come ho detto, io ho ancora da lavorare e sono uno che lavora, che cresce, che ascolta e sicuramente darò di tutto per essere all'altezza di questi campioni.